Ben trovati! Iniziamo con una domanda abbastanza forte per noi. Cosa fa lo spirito del male in noi? Per rispondere a questa domanda vi propongo il Vangelo di Marco al capitolo 1, versetto 21-28, quando Gesù entra di sabato nella sinagoga di Cafarnao per insegnare. Lì sono tutti stupiti dal suo insegnamento, ma proprio in quella sinagoga c'è un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, ci dice il Vangelo, dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù li ordinò severamente, taci, esci da lui. Perché io vi ho scelto questo bravo? Perché lo spirito del male, come lo vediamo anche nel Vangelo, è uno spirito di divisione, diabolos. Il diavolo è la divisione. E il nostro problema qual è? Che noi abbiamo questo cuore diviso. Vedete, nel Vangelo, da una parte, questo spirito del male riconosce che Gesù è il Santo di Dio. In un certo senso vede anche la sua presenza, la riconosce come vera, diventa per lui una minaccia. E quindi c'è questa divisione, lo vuole mandar via. Ecco, nella nostra vita, spesso, può essere anche così. Nel senso che, da una parte, riconosciamo che questo è il bene per noi, questo è il cammino, questa è la strada che io devo seguire. Dall'altra parte, stiamo tirati, invece, verso il male, verso il peccato. Che è sempre, in un certo senso, negare Dio. Allora, noi siamo tirati tra l'uno e l'altro. Ecco perché, diciamo, di essere divisi. Ecco perché si parla di un cuore diviso. Ora, dopo, viene messo nel Vangelo che Gesù risponde severamente. Gesù li ordinò severamente, tasci, esci da lui. Il grido di Gesù è un grido più forte dall'angoscia che abbiamo dentro di questa divisione. Gesù ha delle parole più forti della disperazione che può, certe volte, essere nella nostra vita. Gesù ci chiama alla liberazione. Ecco perché poi, nella notte di Pasqua, viene letto la schiavitù d'Egitto, eccetera. Perché, giustamente, Gesù ci tira fuori dal nostro peccato. Ci è venuto a liberare di tutto questo. Ecco, noi, nella nostra vita, dobbiamo fare una scelta, se sì o no, vogliamo essere liberati. Perché possiamo, anche con il popolo nel deserto, tornare alla schiavitù, invece di camminare verso la libertà. Anche noi siamo chiamati a questo. Allora, è semplicemente questo quello che fa lo spirito del male. Ci divide dall'amore del Signore. Rende il nostro cuore diviso. A noi, di ricercare l'unità con Lui, questa alleanza che Dio ha fatto con il popolo ebraico, che Gesù Cristo è venuto a fare definitivamente con noi, questa alleanza la dobbiamo ritrovare. Questo è il cammino che dobbiamo fare. Facciamolo con forza, con coraggio. Cerchiamo di andare verso di Lui sempre. Grazie. 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 Grazie.